Allora, ciao a tutti, oggi torniamo a parlare di Google Chrome. Era un pezzone enorme, esagerato, di cui non parlavo assolutamente di quelli che erano le novità e i segreti di Google Chrome, ma oggi è giunto il momento di tornare a vedere alcune delle feature che questo browser mette a disposizione dei propri utenti. Abbiamo parlato tantissime volte di esperimenti poi arrivati anche alla fine, i gruppi, come attivarli, abbiamo visto l'elenco di lettura, poi magari tante di queste cose qua non fregano proprio nulla a nessuno, però io le uso e mi piace andare a sperimentare, capire, vedere cosa effettivamente si può fare. E chi di voi ha la versione 95, cioè in pratica quasi tutti, perché è difficile star fuori dagli aggiornamenti più di tot, perché comunque Google Chrome a un certo punto vi mette contro voi stessi e i vostri aggiornamenti, se non li fate vi spara, e vi farò vedere come attivare questi aggiornamenti. Prima di fare questo dovete fare così, tre pallini qua in alto, guida, informazioni su Google Chrome e assicurarvi di avere la versione 95, almeno una versione 95. Parliamo di build ufficiali, quindi nulla di che. A questo punto andate sul vostro browser e scrivete quello che trovate qua, ok? E' l'accesso alla console, diciamo, mettiamola così, alle impostazioni super nascoste di Google Chrome, con l'accesso diretto alle tab group saves. Ora, voi direte, ma che cazzo sta a dire? Ora, vi faccio vedere cosa succede. Voi fate, tac, enable, lo attivate, relaunch tutto Google Chrome, e guardate un po' cosa succede, questo è come vi trasforma le vostre cartellette. Ora, facciamo l'esempio su mail e social, quindi voi lo digitate qua, lui vi apre in automatico tutti i vostri sistemi, tutto quello che voi avete, e se voi fate un click, lui automaticamente ve lo chiude, ok? Diciamo che se non consuma troppo potrebbe essere un sistema utile. Il discorso dei gruppi, cioè il sistema, la possibilità di aggiungere un sito all'interno di un gruppo, eccetera, eccetera, devo dire, ci avevano provato in tantissimi a fare questo tipo di lavoro, cioè Chrome ci ha provato, in tanti ne hanno parlato, io ne ho parlato tanti altri, cioè io non conto nulla, ma in tantissimi ne hanno parlato, ma la cosa ovviamente non ha avuto, diciamo, l'uso poi pratico, sperimentale, ma comunque interessante, che poi si è tradotto in una realtà effettiva. E quindi loro ci provano a dire, se io questa cosa la dovesse automatizzare, nessuno quasi si rende conto di questa cosa, e quindi le attiviamo tutte. Ora, secondo me non è una cosa intelligentissima, nel senso che se io voglio vedere cosa ho dentro delle mie mail, e di questo, per esempio, se voglio andare su Twitter mio, voglio andare a prendermelo dall'elenco. Ah, si può fare in questo modo, guardate, non lo sapevo nemmeno io. Allora, se fate tasto destro, ve lo andate a prendere singolo, interessante. Ok, quindi tasto destro, lo potete anche... Ah, no, tra l'altro ci potete passare sopra... No, non è proprio che funzioni così. Allora, fate tasto destro e potete poi passare sulle varie schede. Ok? Se fate tasto destro, mentre... E poi andate a prendervi, che ne so, LinkedIn. Se invece volete aprirvelo tutto, lo premete e vi apre tutto. È ovvio che stiamo parlando di un browser che brucia tutte le RAM nel giro di un secondo, quindi vi riempie l'uso delle RAM in un modo massiccio orribile e orripilante. Quindi non la trovo una funzione così utile, nel senso che comunque io non le aprirei tutte lo stesso, a prescindere, perché è una follia. Se io ho dentro una cartella, è ovvio che mi interessa una sola cosa. E dover prendere tutte le volte tasto destro per poi andare a selezionarla è un lavoro in più, ovvero, o meglio, è vero che premere tasto destro, premere tasto sinistro è identico, tanto comunque un tasto lo dovete premere. Però d'abitudine io premerei il tasto sinistro, quindi avere il botto di tutto aperto lo trovo abbastanza inutile. Certo, è ovvio che per esempio qua voi aprite tutto in fila, non è... ah, eccolo qua, vedete, potete fare salva gruppo, c'è poi tutta la parte chiudi gruppo, c'è tutta la parte di ricolorarlo in questo modo, potete separare tutte le varie schede, potete includerle all'interno di un gruppo, aggiungi scheda a nuovo gruppo, vedete come si usavano, come i gruppi di fatto, come li avevano inventati, vedete che c'è lo trascino qua dentro, c'è questo tipo di cose, insomma ci sono tutta una serie di possibilità comunque interessanti. Bene, non so se tutto questo può esservi stato utile, però è interessante. Se avete la versione 2000... 2000... scusate, la versione 95 di Google Chrome e volete digitare questo, tac, vi si abilita questa cosa qua. Ovviamente se lo volete disabilitare, default, relaunch, rilanciate sta cosa e lui vi riapre esattamente nello stesso modo, ma potete ovviamente chiudere. Nel momento in cui voi andate a premere sulle vostre schede, vi torna esattamente come prima. Però l'ho trovata una funzione interessante e mi sa che io l'abilito, perché alla fine, ripeto, devo solo fare tasto destro invece che tasto sinistro e avercela comunque uguale. Non lo so, magari potrebbe anche essere interessante. Va bene, spero che sia stato utile a qualcuno, come sempre, anzi da un po' che non ve lo dicevo, se volete commentare questo video, se volete essere aggiornati sulle mie pubblicazioni, tutto quanto, l'unica cosa, come sempre voi sapete, fare un follow sul mio canale, condividete tutto quello che potete condividere, ovviamente questo mi aiuterebbe tantissimo. Io vi ringrazio, al prossimo video, ciao!